Salve a tutti ragazzi, io sono Adria Degos e oggi siamo su Drummiting, è un gioco molto bello, si deve entrati a disegnare, si gioca contro altri giocatori, tu disegni o gli altri disegni e devi indovinare o devo indovinare la parola, faccio play now, ok vediamo contro chi sarò, io? Sennò questo sono io, ok raggiunto uno, che cavolo, ok, hi, ok, dai, vincerò io, Ok, vediamo cosa disegno, è alto, è alto, Che cosa si sa? È alto Volcano In un cappello Lascia What? Ma non so come si non lo so io appena ci perchè perchè bud lì ho pensato cap ho scelto cap scusate il disegno era brutto il disegno è un punto ok guard guard non conosco bene la mia scuola tv televisione ok vediamo un po face ma che cazzo giurdle giurdle lo potevi disegnare meglio questa sembra la monalisa dei poveri e io quando dovrei disegnare andiamo a cosa disegna pen pensile e scritto due punti o camera e eeeh 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 E' bravo. Ok, due punti. Quattro punti. Sono secondo io. No, sono... Sì, secondo sono. Attenda. Attenda, va anche se... Ah! Luna Park. Swings! Comunque sembra... Sì, lo capite non è caliente. Pranzo bene l'inglese. Quindi, vediamo se di segno. E a me quando tocca mai. Ok, Bob Marley. Bob Marley. Sì, tì, 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 tì. si ma questo cos'è voglio capire ok quello non capisco non me la voglio neanche domandare che cos'è mi fa paura ok 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 non è che scrive a detto non è nì no non è che sì che necbr 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 questo è un f impara a scrivere ok impara a scrivere ok e facciamo un'altra cosa un'altra partita non andatele diciassette sedici quindici quattordici tredici dodici undici dieci nove otto sette sei cinque quattro due due uno ok ok siamo pieni siamo ok sarò io dove Bob ti è ma cos'è non Bob o wrestling e il 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 Ok, questo è tutto il treno di girata Ok, dai Bowman Barrio, yeah Boworn Rappi Eh, come sto scrivendo io Cat Balena Purple, è vero, tartan Peluca Catfish Pescegatto Catfish Tu disegni una balena, una mini balena E un gatto Questo è un catfish, è vero, è un pesce gatto Star 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 Falling Star Stella cadenta Ok Quindi ragazzi siamo Terzo Ultimi Ma ce lo faremo Arro Che Che cazzo Questa è una freccia, è una freccia vero Si capisce proprio che è una freccia Guarda, sei Leonardo da Vinci Secondo me sei Banana Banana Elefante Home Che cazzo Disegna Oh, scanna Che cazzo è? Ice Prea Solve Ma che cazzo significa Solve? Ok, vediamo cosa potrebbe mai fare Mani Curve Scendo Quello che cavolo è? È un bastone Snack Forse è gol Quindi vediamo Letto Dot Letro E' una cosa Qualcosa Qualcosa Asomiglia Cosa Asomiglia Ah P No Tree Christmas tree Me lo potevi dire Ci mettevi Ok Questa partita è stata un po' strana Ok ragazzi Ricordatevi di iscrivervi E di lasciare un like al video Bella ragazzi